Il mondo ha la ricerca di energie rinnovabili e nuovi combustibili puliti. Alcuni ricercatori universitari di Hong Kong hanno fatto un'importante scoperta. È possibile ottenere combustibili niente meno che dall'acqua. L'ingrediente segreto è il fosforo rosso. Se esposto alla luce solare, scompone l'acqua in volle di idrogeno, un combustibile pulito. Un ulteriore esempio dell'eccellenza innovativa che caratterizza la nostra Hong Kong. Perché non farla anche un po' vostra? Grazie.